Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Nell'elezione di Rinaldo Melucci a nuovo presidente della provincia sono arrivati anche i voti dell'opposizione. Le schede di colore viola, quelle che appunto testimoniavano l'indicazione che arrivava dai consiglieri comunali della città capoluogo, hanno visto due schede da parte delle opposizioni votate a favore di Melucci e cinque schede bianche, anche in questo caso un modo come un altro per cercare di non nuocere all'attuale sindaco e presidente della provincia da parte di chi in questo momento siede tra i banchi della minoranza. Un tempo quando esisteva l'analisi del voto, quando i partiti, l'opinione pubblica, i giornali esercitavano questa azione di lettura di quanto avvenuto nell'ambito di una competizione elettorale, analisi del voto e non analisi del volto, come invece oggi si nota con questi selfie che vengono scattati in compagnia del candidato vincitore. Tutto ciò rappresentava un modo anche per capire come la politica si è messa in moto, quali sono anche i possibili processi di trasformazione che dovranno riguardarla. Per quanto riguarda Taranto oggi possiamo dire che non esiste più un'opposizione di centrodestra né in Consiglio Comunale né in Consiglio Provinciale. Tutto questo non è un elemento di ricchezza, anzi è il contrario. Una democrazia vive, si nutre, va avanti quando il gioco democratico appunto si legge tra chi è maggioranza e chi invece riveste il ruolo di minoranza. Coronavirus. Il bollettino del 22 settembre segnala in Puglia 853 nuovi casi di contagio e 6 decessi. Nelle ultime 24 ore sul territorio regionale sono stati processati 9.073 test. Nel Tarantino attestati 90 contagi. Delle 9.068 persone attualmente positive, 99 sono ricoverate in area non critica e 9 in terapia intensiva. Dall'ultimo report di Fondazione Gimbe è emerso che nella regione si è verificato un ulteriore calo dei contagi del 5,1% per la settimana 14-20 settembre. Un dato in controtendenza rispetto alla maggior parte delle regioni italiane. In discesa anche l'incidenza che si attesta su 263 casi per 100.000 abitanti. Sul fronte della pressione ospedaliera Gimbe riporta che la regione si posiziona sotto la media nazionale per riempimento dell'area non critica con il 4,5%. Si attesta sopra la media nazionale invece l'occupazione delle terapie intensive pugliesi con il 2,5%. Torna a salire in Italia la curva dei contagi da Covid-19, invertendo la tendenza dopo un mese. È quanto emerge dall'ultimo report di Fondazione Gimbe che segnala un aumento dell'11,3% dei casi nella settimana 14-20 settembre. In particolare sono 15 le regioni italiane in cui si rileva la salita dei contagi. Continua a scendere invece l'occupazione ospedaliera, i ricoveri ordinari diminuiscono del 9,6%, le terapie intensive dell'8%, mentre i decessi scendono del 12,8%. Gimbe segnala anche che le percentuali di chi ha iniziato o completato il ciclo vaccinale sono ormai ferme e che i non vaccinati sono 6,81 milioni, di cui 1,11 milioni di guariti, protetti quindi solo temporaneamente. Ancora troppo poche, inoltre, le somministrazioni della quarta dose, destinate a fragili over 60. Finora sono state somministrate solo 3,2 milioni di dosi. A tal proposito, Nino Cartabellotta, presidente di Fondazione Gimbe, ha dichiarato che l'inversione della curva dei contagi, unita alla riapertura delle scuole, alla maggior frequentazione dei luoghi chiusi per i primi freddi e all'imminente stop delle mascherine sui mezzi pubblici, possono determinare un aumento dei nuovi casi di imprevedibile entità, rendendo pertanto urgente che oltre 14 milioni di persone ricorrano la quarta dose di vaccino. In un momento di disorientamento generale della popolazione, ha concluso Cartabellotta, e di sostanziale stallo della campagna vaccinale, è utile ricordare che al momento non è previsto un ulteriore richiamo per chi ha già fatto la quarta dose. Inoltre, i vaccini aggiornati non sono autorizzati per il ciclo primario, che deve essere effettuato esclusivamente con quello originale. Infine, per gli over 12 non inclusi nella platea, la quarta dose non è raccomandata dal Ministero della Salute, né le regioni consentono le prenotazioni, nonostante l'autorizzazione dell'AIFA. È stato denunciato dal personale del commissariato di Manduria un anziano che aveva rubato e poi occultato un furgone all'interno della sua proprietà. Attraverso il sistema satellitare GPS installato a bordo del mezzo, i poliziotti avevano rintracciato il furgone rubato all'interno di un terreno di pertinenza dell'abitazione dell'uomo, che lo aveva nascosto sotto un telo verde. Dopo aver chiesto all'anziano, già noto alle forze dell'ordine, di mostrare il mezzo, i poliziotti hanno notato segni evidenti di manomissione del blocco sterzo, del nottolino di avviamento e dell'impianto elettrico. L'uomo ha cercato di negare l'evidenza affermando che il mezzo era stato portato lì da un suo amico, di cui però non è stato in grado di fornire le generalità. Il furgone rubato è stato pertanto riconsegnato al legittimo proprietario, mentre per l'anziano è scattata la denuncia per reato di ricettazione. Partiranno a breve le aperture straordinarie e domenicali dei mercati rionali di Talsano e del quartiere Salinella. L'amministrazione Melucci ha infatti accolto positivamente la richiesta dei commercianti ambulanti e delle loro associazioni di categoria. Il sindaco Rinaldo Melucci ha definito il commercio di vicinato e i mercati rionali parti fondamentali di un'economia sana, vitale e diversificata. Nello specifico il mercato di Talsano sarà aperto il 9 ottobre e il 13 novembre, mentre quello del quartiere Salinella sarà attivo sempre straordinariamente nelle giornate del 16 ottobre e del 20 novembre. Hanno avuto inizio nella mattinata del 22 settembre presso l'eleganti sale del Releisto di Taranto i lavori del Lego Festival sul tema Viaggiare in Puglia, itinerari e nuovi linguaggi. Prende il via la serie di cooking class in cui gli chef stranieri daranno la loro interpretazione delle materie prime pugliesi scoperte nel viaggio attraverso i quattro itinerari del gusto. La contaminazione tra culture diverse, la scoperta di gusti e storie così distanti daranno vita a uno storytelling nuovo e diverso della Puglia enogastronomica e dei suoi prodotti. Taranto è al centro della programmazione turistica regionale, lo abbiamo visto già dai grandi risultati di quest'anno. Con questi eventi andiamo a rafforzare questo concetto e andiamo a investire su prodotti turistici assolutamente richiesti. L'enogastronomia in Puglia rappresenta la seconda motivazione di viaggio, abbiamo necessità di raccordare la rete produttiva, gli oltre 10.000 ristoranti presenti nella nostra Puglia con la formazione, con la ricerca di personale e soprattutto con l'eccellenza. Qui oggi ci sono gli chef stellati da tutto il mondo, abbiamo bisogno anche di contaminazione fra i nostri prodotti tipici, fra le nostre eccellenze e i metodi di processi di produzione che nel giro del mondo possono rappresentare l'eccellenza. Questa contaminazione pensiamo che possa portare ricchezza alla nostra regione e possa renderla ancora più attrattiva. Un importante evento dedicato soprattutto al turismo che punta sull'enogastronomia, sulla qualità delle nostre predibattezze, dei nostri prodotti di eccellenza che si fondono anche con delle realtà internazionali, chef stellati provenienti da tutto il mondo. C'è un dato molto interessante, l'84% dei turisti che visitano il territorio nazionale e in particolar modo la Puglia, tornano a casa con un gadget enogastronomico. Questo è un segnale davvero significativo rispetto a quelli che sono i pillars su cui punta anche la regione Puglia. E' un grande merito, va dato agli organizzatori, a Monica Caradonna in particolar modo, di aver puntato su quello che è un asset fondamentale per noi, la qualità e le nostre eccellenze. La gioiella Prisma Taranto esce sconfitta e 4-7 nel trofeo Città del Codex e del Castello. Gli Ionici perdono per 3-1 con i parzetti di 21-25, 25-22, 21-25, 20-25 contro i Greci dell'Olimpia, costo sul neutro di Corigliano Calabro nel quarto allenamento congiunto. E' stato il primo test un po' più probante contro una squadra di livello sicuramente superiore, con giocatori di esperienza mondiale, affermato nel postpartito il vicecapitano della gioiella Prisma Taranto, Oimone Alletti. Alcuni loro atleti erano appena arrivati dal mondiale, è stato un match positivo che ci ha dato buone indicazioni. Abbiamo giocato tutti i set alla pari, lottando punto a punto. Queste partite ci serviranno per mettere il ritmo nelle gambe. Nel weekend gli Ionici saranno nuovamente protagonisti nel torneo spirito di squadra, dove sabato alle ore 18 affronteranno i pari grado della top volley cisterna. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.